Buonasera, sono Concezzi, amministratore delegato di Intermark Systemi. Siamo qua a Milano, oggi il 21 novembre, abbiamo l'Innovation Day con la presentazione di tutti i nuovi prodotti MX al mercato italiano, tra i quali i bellissimi touch panel Modego X nella versione del casso posizionati in verticale. E' la novità assolutamente del momento in cui il cliente ha la possibilità di gestire tutte le sue funzioni tramite audio, video e luminotecniche tramite le nostre interfacce posizionate in verticale. Contemporaneamente alla presentazione di tutte le nostre tecnologie funzionanti abbiamo pensato un evento con dei mini corsi, 3 la mattina e 3 il pomeriggio, della durata di 40 minuti in cui bustiamo tutte le nuove tecnologie. Oltre il Modego appena citati, la matrice E-Controller All-in-One Enova DVX, il sistema di distribuzione su categoria 5 Enova DGX e le piattaforme di PTV della MX Vision 2. Altro motivo dell'evento è il fatto che Intermax Sistemi dal 1 settembre è anche distributore della linea Congress per il mercato italiano e quindi approfittiamo di questa giornata per incontrare i nostri sistemi integratori dell'area Nord Italia. Grazie. 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 Grazie.